ciao a tutti oggi 6 aprile la luna inonderà le famiglie denati del segno dell'ariete e del cancro di discussioni dovete portare pazienza e pensare che tutto si può risolvere con uno scambio di opinioni pacato piuttosto che con le urla aiuterà le famiglie denati nel segno del capricorno e dei pesci a vivere a pieno la vita domestica saturno offre nuove opportunità ai nati del segno dell'acquario tutte da cogliere al volo potrebbe influire negativamente su alcune opportunità già concesse ai nati del segno del toro siate più oculati e concentrati marte farà bruciare di passione i cuori denati nel segno dei gemelli e della vergine vi aspettano momenti interessanti giove trasmette voglia di tentare la fortuna ai nati del segno della bilancia ricordate che ogni lasciata è persa non porterà grandi novità ai nati del segno dello scorpione il sole aumenta l'attività fisica dei nati del segno del leone e del sagittario vi riprenderete tutta la vitalità che avete perso per strada e ricorda la vita è come una scatola di cioccolatini non sai mai quello che ti capita grazie per l'ascolto e a risentirci a domani siamo figli delle stelle non ci fermeremo mai per niente al mondo